Io voglio lanciare un messaggio per questo grande evento che vede un sacco di gente. Noi siamo andati in tv, abbiamo dato, abbiamo informato, ma il rischio è che la gente resti davanti alla tv. Allora, per ogni minuto che guardate un nostro portavoce, bravo, come siamo capaci solo noi in effetti a esserlo, in tv a fare informazione, passate un minuto con i nostri consiglieri in circoscrizione nei municipi, nei consigli comunali, perché è lì che i cittadini devono andare, perché la rivoluzione non inizia con una grande manifestazione a Roma o soltanto prendo scatolette di tono, ma inizia nei consigli comunali, nei piccoli posti dove sono vicino a casa, basta andarci un'ora alla settimana a seguire qualche commissione, non è necessario sapere nulla, basta sedersi lì e quando vi sederete lì capirete perché vi ho detto questo, perché i politici hanno paura di voi e cambia completamente la musica quando oltre ai suonatori c'è anche il pubblico. Mi raccomando. Grazie a tutti.